Un abbraccio tra fratelli che appartengono all'unica famiglia di Dio e quello che si è vissuto nella terza visita di un Papa alla Sinagoga di Roma. Ad accogliere Papa Francesco Ruth Dureghello, da meno di un anno presidente della comunità ebraica romana, prima donna alla guida della comunità che è a Roma da 22 secoli. Nel suo discorso la Presidente ha ricordato gli ebrei uccisi dal nuovo terrore, ma anche il sangue dei cristiani e degli stessi arabi in Medio Oriente ed ha ricevuto l'applauso del Papa quando ha salutato i sopravvissuti alla Shoah. L'abbiamo incontrata il giorno dopo nello stesso Tempio. Presidente, un incontro con i fratelli maggiori. Possiamo dire che è stato questo anche nel clima, la visita di Papa Francesco alla Sinagoga e alla vostra comunità? Il clima è stato sicuramente un clima affettuoso, un clima amichevole, un abbraccio significativo fra la comunità ebraica di Roma e Papa Francesco, che proprio in questo sentimento, in questo suo aprirsi con questo abbraccio affettuoso, ha sicuramente caratterizzato e significato un passo avanti nei rapporti fra il Vaticano e questa bellissima comunità di Roma. Quali parole, quali gesti di Papa Francesco in questo incontro l'hanno colpita di più? Beh, sono state due ore intense, devo dire. Se dovessi scegliere un momento in particolare, gliene direi due. Un primo luogo ovviamente è il momento in cui si è abbracciato con i sopravvissuti. I nostri sopravvissuti che rappresentano non soltanto la memoria di ciò che è stato, ma con il loro gesto quotidiano e con il loro diffondere la memoria nelle scuole attraverso il messaggio che portano tutti i giorni ai ragazzi, è stato un passaggio ovviamente indimenticabile. E il secondo, quando ho terminata la lettura del discorso, del mio discorso, mi sono avvicinata ovviamente per stringere la mano e lui mi ha detto che condivideva ogni parola del mio discorso. Devo dire che nel discorso c'erano messaggi importanti per chi lo ha seguito. È chiaro che si lanciavano delle importanti temi di riflessione su Israele, sul rapporto fra il mondo ebraico e il mondo cristiano. Sentire dal Papa che condivideva quel messaggio e quelle parole è stato davvero emozionante. Nel suo discorso la Presidente Dureghello ha sottolineato che la fede non sparge sangue e richiama al dialogo, chiedendo anche la collaborazione dell'Islam per una convivenza ispirata all'accoglienza e per lanciare un messaggio nuovo davanti alle tragedie del terrorismo. Io penso che le grandi religioni hanno una grande responsabilità, sono tutte portatrici del messaggio del Signore, del messaggio di Dio, che è sempre un messaggio di pace, è sempre un messaggio di libertà. Credo fortemente che anche l'Islam in questo debba avere un ruolo e richiamo fortemente una responsabilità anche del mondo islamico in Italia, la cui voce ancora stenta un pochino ad emergere, ma sono sicura che ci sono tanti musulmani che condividono questo messaggio e che hanno soltanto desiderio di trovare dall'altra parte qualcuno che gli dia modo e spazio per poterlo esprimere. Il Papa ha chiesto di affrontare insieme le grandi sfide, come quella di un'ecologia integrale. Lei ha parlato di soluzioni condivise da trovare insieme. Le religioni possono dare un contributo maggiore alla crescita della società? Le religioni devono emergere nel loro lavoro quotidiano. Chi è vicino al mondo religioso conosce quanto poi ci si prodighi nel perseguire la missione che ci viene portata, che ci viene rappresentata nei testi sacri e che noi tutti svolgiamo quotidianamente con alacrità e con tanto veramente sacrificio. Aiutare i bisognosi, andare incontro ai bisogni dei malati, educare i nostri figli, fanno tutti quante parte di quel messaggio che le religioni portano e che deve essere ovviamente riconosciuto. È chiaro che questo deve essere anche motivo di apprezzamento da parte del mondo esterno. Io penso che in Europa un pochino negli ultimi anni il valore del mondo delle religioni sia andato scemando o quantomeno se ne sia un pochino diminuita l'attenzione. E questo deve invece ritrovarsi e deve ritrovarsi con un apprezzamento, con un riconoscimento e soprattutto con il grande sforzo quotidiano che poi noi tutti dall'altra parte dobbiamo compiere.